perdonatemi se non mi vedete bene ma sono al buio e mi piace anche lo stallone di mistero talisker dieci anni talisker è la più antica distilleria dell'isola di sky che dire di questo whisky che fa parte di insieme a oban insieme alla gavoli a craggermore siamo a tanti altri della collezione classic malls del colosso del distillati di ageo dieci anni loro prodotto di base ma un prodotto che secondo me vale sempre la pena avere in casa il naso ha un incipit di pepe nero intrigantissimo delle belle note maltate e una torbatura non assolutamente invasiva anzi una torbatura direi molto elegante a un piccolo finale di miele di castagno in bocca il corpo è medio comunque è sufficientemente caramellato quindi può essere un whisky che risulta piacevole a tutti la nota affumicata si rincorre dal naso alla bocca e forse in bocca è leggermente più marcata rispetto a quella del naso è un whisky che va giù molto bene non ha bisogno assolutamente di acqua è un whisky che comunque per quello che costa siamo nell'ordine di 30 35 euro riesce a soddisfare tante esigenze io ripeto consiglio vivamente a chiunque di tenerlo in casa perché riesce a rispecchiare il gusto di molti bevitori è un whisky che nella mia personale gradazione gli do un 72 73 punti